Buon pomeriggio, sono a disturbarvi ancora una volta per parlarvi di una innovazione che è stata introdotta ieri nel bollettino della Regione Emilia-Romagna numero 83 ed è l'ordinanza regionale numero 35. Pubblicata ieri entra in vigore oggi e durerà ovviamente durante il periodo di emergenza in tutti i periodi in cui la Regione Emilia-Romagna si dovesse trovare classificata in zona rossa con l'ordinanza del Ministro della Salute. Quindi in zona rossa a partire da oggi è autorizzata la riapertura delle attività che rientrano nel codice ATECO 96.09.04 ovvero le attività dei servizi di cura degli animali da compagnia. Come si potrà svolgere questa attività? Tendenzialmente con le precauzioni che ormai conosciamo ma le ripetiamo un attimo. Allora, previo appuntamento, autodichiarazione da parte del proprietario che l'animale non convive con persone poste in quarantena o affette da Covid-19, le modalità da utilizzare non devono prevedere l'ingresso dei clienti presso i locali dell'esercizio, quindi i clienti non devono entrare nei locali, deve essere limitato all'essenziale il contatto tra gli addetti ed i clienti stessi, e devono essere comunque sempre utilizzati i mezzi di protezione individuale anche durante i contatti con l'animale e comunque bisogna garantire il distanziamento sociale. Queste sono le prescrizioni. Ovviamente nel caso non si potessero rispettare l'apertura non può essere effettuata, ma diciamo che a questo punto è solo questione di organizzazione. Questo codice Ateco che cosa ricomprende? Quindi quali sono le attività che possono riprendere? Visto che l'ordinanza parla appunto solo genericamente di codice Ateco, quello che avevo detto prima, che adesso mi amore non mi ricordo, il 96.09.04 è titolato Servizi di cura degli animali da compagnia, esclusi ovviamente i servizi veterinari. Quali sono questi servizi? Servizi di cura degli animali da compagnia quali? Presa in pensione, tolettatura, addestramento, custodia, attività dei canili, attività di dog sitter, e servizi di accalapiacani. Queste sono le attività che da oggi, 26 marzo, possono riprendere. Bene, non vi trattengo oltre, anche perché sono abbastanza maridotto dopo aver fatto ieri il vaccino, quindi sono un attimo spossato, niente di drammatico per carità, però sono un attimo prostrato, quindi la faccio molto molto corta, un caro abbraccio a tutti, un saluto veramente di cuore a tutti i colleghi dell'Emilia-Romagna, un grandissimo abbraccio a quelli che sono ammalati, un buon lavoro a tutti. Grazie.